Amici appassionati di calcio, benvenuti in questo nuovo video di analisi tattica qui su Football Manager 2024. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo che le mie tattiche e le vostre tattiche le potete trovare sul mio canale Discord. Tutte le info, come sempre, le trovate nel link in descrizione. Quest'oggi parliamo del Bologna, di Tiago Motta. Questa squadra offre un calcio all'avanguardia, innovativo, moderno, a tratti spettacolare. Tiago Motta continua quel che di buono ha lasciato nella passata stagione, dove ha raccolto una nona posizione in classifica, dove ha raccolto anche la pesantissima eredità di Sinisa Mialovic, portando il Bologna a ottenere decisamente tanti punti nella stagione 22-23. Ed in questa i presupposti sono quelli di una stagione ancora più bella, ancora più spettacolare, ancora più convincente, ma soprattutto con un Bologna proiettato addirittura alla Champions League. Probabilmente si sta esagerando, anche perché comunque mancano ancora tante partite. Ma quanto offerto da Motta in questi mesi? Davvero nessuno nella recente storia di questa squadra. Come si schiera il Bologna? Noi qui siamo su Tactical Board, lo riutilizziamo dopo la presentazione dell'Atalanta di Gasperini. Il Bologna in questi due anni, ormai un anno e mezzo, di Tiago Motta allenatore, sono tre gli schieramenti offerti. Tutti magari partono dalla stessa base, dal 4-3-3, quindi questo è il primo schieramento. L'evoluzione a questo modulo può essere il 4-1-4-1. La seconda evoluzione, che è quella che vi propongo quest'oggi, sia come analisi, sia anche come tattica all'interno di Football Manager, è il 4-2-3-1. Nella passata stagione, una squadra che cambiava tantissimo, il protagonista del proprio reparto offensivo, Arnautovic, Barro, Sansone, Zirze. Ci sono state partite dove anche Ferguson ha ricoperto il ruolo di attaccante. Quest'anno sicuramente ci sono stati tanti cambiamenti, tante rotazioni, ma là davanti quasi sempre un unico riferimento, Joshua Zirze. Parleremo poi più avanti della figura dell'attaccante del Bologna, che quest'anno sta facendo cose straordinarie, non tanto dall'aspetto realizzativo sicuramente migliore quell'aspetto, ma quanto nella utilità poi in campo, del sacrificio, del tenere il pallone. Ma come detto poi parleremo a lungo di questo attaccante e l'attaccante olandese, però prima parliamo un attimino di come funziona il Bologna di Tego Motta. Noi in realtà abbiamo già parlato di questo modulo, ma l'ho aggiornato, quindi se avete scaricato il modulo di Motta che vi ho presentato nella carriera del Catania qualche settimana fa, sappiate che questo è un nuovo modulo aggiornato a quello che secondo me è il Bologna che vediamo nella realtà. Naturalmente ho avuto modo di vedere più partite, di analizzare poi nel dettaglio diverse situazioni, quindi è la versione corretta, probabilmente, forse, la versione definitiva. Partiamo dalla costruzione, da come vuole costruire il gioco il Bologna. Io qui vi ho presentato una formazione, poi naturalmente i protagonisti nel corso della stagione possono cambiare, ma almeno abbiamo qualche riferimento di quelli che sono stati i calciatori che hanno poi effettivamente giocato di più nel corso di questa stagione. Come diverse squadre, soprattutto in Italia, si riparte quasi sempre dal basso. Il Bologna ha questo aspetto di fondamentale importanza, perché si tratta di una ripartenza dal basso che ha lo scopo di attirare il pressing avversario e vuole proprio forzare il pressing, nel senso che, qualora la situazione non lo dovesse così permettere, tanti poi gli scambi, tanti retropassaggi, insomma, devi per forza far uscire l'avversario, far alzare l'avversario per attirarle nella propria metà campo. Un dato interessante del Bologna è che è una delle squadre, se non addirittura la squadra, col più alto numero di passaggi nella propria metà campo. Una peculiarità, però, della squadra di Motta è il lavoro del terzino sinistro, in questo caso Christensen, e del lavoro del terzino destro, Posh. Mi spiego meglio se, per altre squadre, come magari il Milan di Pioli, per fare un esempio, offre una fascia sinistra molto offensiva, con Teo Hernandez che sale, che si posiziona, diciamo, un posizionamento medio in fase di possesso, che è al limite del linee di metà campo. Poi magari si ha un Calabria e un Florenzi molto più bloccato. Il Bologna, invece, questo non lo offre, nel senso che, alla fine, come ho detto, tantissimi i passaggi nella propria metà campo, la fase di impostazione, vede i due centrocampisti abbassarsi poi sul linee della mediana e offrire, appunto, delle triangolazioni che possono riguardare questa zona tra Calaflori, Froyler e Christensen, oppure Ebisher, Beokema e Posh, con l'abbassamento, ma non esagerato, di Orsolini e Salem Ekers, che saranno sempre larghi, ma andranno ad occupare sempre le zone esterne del campo, proprio perché, insomma, il Bologna vuole lavorare in ampiezza e vuole assolutamente sfruttare le fasce. Ritornando, però, in una situazione di palla all'interno della propria metà campo, parliamo un attimo, poi, nello specifico delle figure di questi ruoli, anche perché poi dovremmo andarli a tradurre all'interno del gioco. Terzini bloccati, ma su FM, diciamo che può bloccarli fino a un certo limite. Sappiamo che un blocco classico su FM è quello di impostare un terzino con compito a difesa. Questo, poi, va a forzare all'interno del gioco un tenere la posizione, e questo, dove il calciatore, poi, non ha la caratteristica di andare avanti appena possibile, cercherà, tendenzialmente, di mantenere una posizione il più prudente possibile in fase di possesso. Questo, però, non l'ho portato nella mia traduzione, poi, all'interno di FM. Prendiamo la figura di Posh, che è sicuramente quella più particolare rispetto, poi, alla fascia sinistra. Posh, secondo me, può, all'interno del gioco, offrire tre ruoli, perché nel corso della partita sono tre ruoli che va, secondo me, ad occupare, a svolgere. Due sono lo stesso ruolo, l'esterno invertito, sia compito a supporto, sia con compito a difesa. Poi, è chiaro che noi dobbiamo prendere una scelta, perché non possiamo costantemente cambiare il ruolo nel corso della partita per far sì che possa essere il più realistico possibile. Si prende una scelta definitiva e si lascia quello. Io, personalmente, ho messo esterno invertito a supporto, non a difesa. La terza opzione poteva tranquillamente essere quella del terzino invertito, però, secondo me, è quella più lontana dalla figura di Posh, perché il terzino invertito, in un contesto con un terzino classico, il terzino classico si alza, il terzino invertito stringe e si forma, appunto, una sorta di difesa 3, cosa che, secondo me, non è presente all'interno del Bologna di Tiago Motta. La figura che più si avvicina alla realtà è sicuramente quella dell'esterno invertito, con compito a supporto, nel senso che Posh tendenzialmente, diciamo, cercherà comunque di partecipare alla manovra in mezzo al campo, cercherà sicuramente di aiutare anche Orsolini, che andrà ad occupare una posizione più larga. Ci sarà il lavoro, poi, della mezzala, che si spingerà sempre in una zona esterna, nel cercare così di allargare il gioco, però Posh, appunto, parteciperà più in questa zona di campo. Poi, se la situazione dovesse consentirlo, dovesse così permetterlo, Posh, comunque, anche ad esterno invertito, potrebbe, anche se raramente, lavorare come un classico terzino, e quindi poi, magari, effettuare una sovrapposizione, o comunque lavorare in una zona più larga, ma tendenzialmente cercherà sempre di lavorare in una zona più centrale del campo. Parliamo adesso dei due difensori centrali. Secondo me, allora, per andare un minimo a differenziare un po' il lavoro, Calafiori può essere difensore che imposta. Se avete coraggio, anche Libero che avanza. Nella realtà, secondo me, Calafiori è più un Libero che avanza. Un giocatore con tante responsabilità a palla al piede, una, direi, sorpresa, perché conosciamo Calafiori, sappiamo che, comunque, per gran parte della sua carriera, è stato sempre un terzino sulla fascia sinistra. Questo giocare in una zona più centrale, da difensore centrale, è iniziato tutto in Svizzera, nel suo presto al Basilea, e poi questo lavoro l'ha voluto continuare motta, esaltando poi le qualità dell'ex terzino della Roma. Libero che avanza, però, secondo me, su FM si spinge veramente tanto. Questo modulo che porta con sé tantissimi rischi, soprattutto poi nelle transizioni negative, quando si perde il pallone, io, personalmente, ho deciso di dare sì responsabilità a Calafiori, però pur rimanendo in un contesto abbastanza sicuro, tranquillo, e quindi ho deciso di utilizzarlo come difensore che imposta. Per quanto riguarda Beuke, ma ci potrebbe anche qui essere questa soluzione, qua dipende da voi, dai vostri interpreti, può essere difensore che imposta, ma può tranquillamente anche essere un difensore centrale normale. Io è chiaro che in questa analisi parlo di quello che è il Bologna vero, ma parlo anche poi, soprattutto, di Football Manager, al momento che Football Manager è anche protagonista di questo video, e cerco anche di avvicinarmi a quelle che possono essere le vostre carriere e le caratteristiche, poi, dei vostri calciatori. Andando, invece, sulla sinistra, su Christensen, io, personalmente, qui le soluzioni, secondo me, sono due, terzino o terzino fluidificante. Naturalmente, a supporto. Naturalmente, a supporto per non avere quella costrizione, quell'obbligo di vederlo, per forza di cose, in una condizione offensiva, perché bloccati sì, ma non troppo. Quindi, secondo me, terzino normale classico può essere la scelta giusta. Centrocampo, tre quarti campo, ma soprattutto fasce. Fascia sinistra e fascia destra. Queste le principali zone dove vuole lavorare il Bologna di Tiago Motta. Qui è un discorso veramente lungo, è un discorso veramente ampio. Cerchiamo di fare ordine, parlando di disordine, ma un disordine comunque studiato. Nel senso che questa squadra non vuole lasciare punti di riferimento. Ci sono tantissime rotazioni in mezzo al campo, i centrocampisti e la loro peculiarità è sicuramente quella di occupare una posizione il più esterna possibile. Comunque, supportare quello che è il lavoro sulle fasce. Ma, attenzione, perché appunto non vogliono lasciare punti di riferimento. Sicuramente c'è una figura, quella di Froiler, che è quella figura più da regista, più da calciatore, un attimino più prudente rispetto a quello che può essere un Ebischer, un Fabian o un Moro. Froiler, per me, è un registro arretrato. Poi, come ho detto, abbiamo già parlato dei rischi che porta a questo modulo. Naturalmente, è posizionato poi in mezzo al campo, sì più prudente, ma comunque cercherà di supportare la manovra, nel senso che non sarà fisso qui nella linea centrale di centrocampo, ma potrebbe anche spingere sulle tre quarti. È chiaro che però un Froiler sarà difficile, insomma, vederlo come presenza fissa all'interno dell'area di rigore. Questo lavoro di inserimento è più, diciamo, un compito di un Ebischer o soprattutto un compito di un Fabian che continua un lavoro che ha svolto nella stagione passata in Serie B e anche poi quando giocava nella primavera dell'Inter. Ma il vero protagonista di questa squadra del centrocampo del Bologna è naturalmente lui, lo scozzese Lewis Ferguson, calciatore ragazzi spettacolare. Si parla tantissimo di Zirze ed è giusto così perché naturalmente si merita tutti i complimenti del caso. ho pure scritto Zikze, mamma mia, vabbè, manca una R naturalmente, scusatemi, me ne sono accorto ora, però si parla troppo poco di Ferguson. Secondo me il vero MVP di questa squadra è Lewis Ferguson perché quello che fa è veramente un qualcosa di assoluto, di straordinario, è il giocatore probabilmente più completo di questa squadra perché è anche quello che lo si vede in realtà di più nel senso che la scelta è stata quella di utilizzare un ruolo di centrocampista offensivo con compiti offensivi. Poi vi parlerò anche del motivo di questa scelta del compito offensivo rispetto a quelli a supporto ma il centrocampista offensivo che lavora sulla trequarti campo tendenzialmente di base quando la squadra è imposta occupa una posizione più ritratta rispetto a quella di un altro classico trequartista che può lavorare in quella zona come ad esempio la DS quindi in una fase diciamo di impostazione ritorniamo quindi a un passo indietro qui abbiamo Froiler che per il ruolo che occupa sta diciamo un attimino più basso rispetto a Ebischer Ebischer comunque non tanto distante anche se non andrà a stare sulla stessa linea di Froiler ma poi soprattutto Ferguson fate conto che comunque lavorando in questa zona e il Bologna come sapete tanti discambi in mezzo al campo il supporto di Ferguson è comunque costante è comunque presente si vuole comunque avere un predominio tanti giocatori che possono dominare quella zona di campo però poi Ferguson diventa protagonista sulla trequarti campo diventa soprattutto protagonista anche all'interno dell'area di rigore poi parleremo anche di questo aspetto quando tratteremo appunto la zona poi occupata da Joshua Zirze ritornando appunto sulla questione fasce sono ali che però si accentrano però tendenzialmente partono con una posizione molto larga molto esterna sempre col supporto naturalmente di Froiler di Ebischer quindi insomma un Bologna che vuole sfruttare le fasce con anche la partecipazione da parte di Kristiansen e ogni tanto anche quella di Calafiori e dell'altro difensore nel senso il Bologna quando attacca comunque cerca di avere un maggior numero di giocatori possibili che siano almeno un pochino più in là rispetto poi le linee di centro campo e naturalmente appunto Ferguson a svariare quindi se si attacca a destra cercherà di stare a destra se si attacca a sinistra cercherà di stare a sinistra ma qui veniamo noi con la figura di Joshua Zirze seconda punta con compiti a supporto ci sono molte volte molte situazioni molti scenari in cui Zirze occupa una posizione da trequartista poi abbiamo Ferguson in base a dove si attacca se a sinistra a destra magari si porta in una posizione più laterale a sinistra e poi uno dei due centrocampisti di solito non Freuler ma quello che lo affianca quindi a destra o Ebischer o Fabian vanno ad invadere l'area di rigore e ci troviamo una situazione come questa cioè Zirze praticamente il rifinitore Ebischer o Fabian e Ferguson i due centravanti questo va a portare non pochi problemi nelle difese avversarie perché la punta come sempre viene tenuta dal difensore la seconda punta il principale compito anche nel calcio vero è quello di trascinarsi un difensore a sé per poi aprire spazi Zirze è fenomenale perché non solo nel movimento trascina il difensore ma è anche molto bravo in quello che è il controllo palla un giocatore con un controllo palla stratosferico secondo me uno dei migliori in questo campionato e non solo della Serie A ma devo dire anche di altri campionati ha anche una dote che insomma non tutti gli attaccanti si possono permettere quella del saltare l'uomo quindi non solo trascina non solo controlla ma in alcune situazioni riesce anche a creare superità numerica saltando facilmente l'uomo e poi permettendo magari l'inserimento di un Selemaker l'inserimento di un Ossolini insomma è un Bologna che poi effettivamente poi iniziano ad essere diversi gli elementi che attaccano la profondità inoltre vi ricordo come sempre c'è il supporto di un Calafiori che può essere una soluzione per una sponda dove poi Calafiori può effettivamente avere diverse alternative davanti a sé è una squadra che come ho detto è molto interessante naturalmente qui stiamo parlando di uno scenario dove l'uscita palla a terra dalla difesa è venuta bene quindi come sempre abbiamo detto a inizio video è una squadra che chiama il pressing che vuole la pressione da parte degli avversari se questa pressione riesce bene poi è una squadra che là davanti offre questo spettacolo due se vi mostro uno col Bologna questo dove vedete appunto il risultato di quella che è stata una stagione di test di modifiche per arrivare a questo risultato al 4-2-3-1 Tiago Motta l'altro invece con il modulo definito completo con un'altra squadra che nella realtà sta strizzando l'occhio proprio a Tiago Motta ci ritroviamo con il discorso fatto prima? spero proprio di sì qui come vedete appunto abbiamo esterno invertito difensore centrale difensore che imposta terzino in mezzo al campo un cc o potenzialmente potrebbe anche dar bene una mezzala con compiti offensivi registro arretrato le due ali una offensiva una non allora qui in realtà dipende molto da voi naturalmente però se avete una squadra che ha a disposizione un'ala destra più interessante rispetto a quella che occupa la fascia sinistra ricordatevi di specchiare almeno il lavoro poi dei due centrocampisti quindi magari quello che attacca nel lato dell'ala supporto mentre invece al contrario il regista arretrato con compita difesa nel lato dell'ala che attacca anche perché nella realtà è probabilmente Orsolini quello che è l'elemento più pericoloso tra le due ali veniamo però alla fase di possesso perché non abbiamo parlato ampiezza abbastanza larga giocare pallone di spazi nella versione iniziale di questo modulo non c'era questa idea anche perché volevo maggiormente forzare il possesso palla volevo evitare lanciare palloni tra virgolette a vuoto o forzare questo tipo di giocata però nella realtà comunque il Bologna offre anche questa soluzione quindi perché privarsene comunque sia la cosa importante è assolutamente partire per la terra dalla difesa stile di passaggi più corti per forzare insomma anche molti più scambi ritmo di gioco non esagerato non altissimo io qua in realtà sono anzi indeciso tra leggermente più alto e addirittura standard perché ci sono situazioni dove comunque il Bologna è molto calmo è sicuro cioè anche se avviene una pressione dietro comunque sia i difensori 4 alla difesa mantengono una certa calma cosa comunque assurda se consideriamo il livello del Bologna questa calma te la possono offrire squadre come Milan Juventus Inter insomma squadre che occupano comunque le prime posizioni in classifica beh insomma il Bologna comunque non è tanto sotto non è tanto distante ritmo di gioco quindi leggermente più alto e poi libertà sulla tre quarti campo tanta libertà abbiamo la seconda punta abbiamo le ale abbiamo l'inserimento insomma non ho voluto forzare nulla e quindi ho pienamente lasciato libertà solamente con i crossbassi questa insomma è stata l'unica soluzione che ho voluto forzare fase di transizione abbastanza classica c'è solamente una differenza inizialmente nella versione base di questo modulo era il passarlo a un ruolo specifico a posh adesso vogliamo offrire più soluzioni o a posh o all'altro terzino o ai difensori centrali nella fase non in possesso i rischi che porta questo modulo una squadra che è rivolta in avanti che cerca comunque di prendere alto l'avversario questo lavoro non solamente poi di squadra ma anche individuale qui abbiamo pressing praticamente su tutti quelli che sono gli elementi che formano il tre quarti campo qui intanto abbiamo anche tutte le caratteristiche della seconda punta con il dribbare di più con la libertà di movimento col maggiore pressing con i contrasti duri ma anche con la marcatura stretta qui naturalmente ali sì ma che tagliano dentro col pallone caratteristiche istruzione di questo FM in passato non si poteva pressing marcatura stesso lavoro anche per l'ala opposta Ferguson abbiamo un corri più rischi abbiamo un dribbare di più abbiamo un maggiore pressing abbiamo anche un'attenzione nella fase di mio possesso con maggiori riferimenti e poi quella libertà quel non lasciare punti di riferimento soprattutto in mezzo al campo sicuramente il regista non può insomma discostarsi più di tanto a quella che è la sua posizione naturale discorso diverso invece per il centrocampista centrale dribbare allargare libertà e marcatura fase difensiva con l'esterno invertito corri meno rischi tira di meno più pressing terzino opposto stai più largo più pressing i due difensori centrali con marcatura marcatura però differente il ruolo difensore che imposta e difensore centrale i risultati della seconda punta supporto sono i seguenti Josh Azirze chiude la stagione con 20 gol e 3 assist secondo miglior marcatore Luis Ferguson con ben 17 gol e 9 assist i gol però li portano soprattutto Carson e Orsolini nel senso che sono loro i migliori assessment della squadra con 12 assist a testa è stata una stagione un po' particolare anche perché ho dovuto effettuare tante modifiche per avvicinarmi sempre di più al Bologna reale ma non butto via questa stagione 38 partite 64 punti Bologna che chiude questa serie A al sesto posto in classifica i dati sul possesso secondo me un po' sballati per le tante modifiche poi effettuate perché possesso medio il Bologna si posiziona solo all'ottavo posto e non un bellissimo dato sui passaggi completati perché alla fine il Bologna anche qui la posizione è ancora più bassa addirittura al decimo è però interessante l'aspetto là davanti quello che riguarda appunto le conclusioni verso la porta e non solo anche poi tutti quelli che sono i tiri in generale perché a livello di occasioni create il Bologna si posiziona terzo posto alle spalle di Fiorentina e Milan come tira a favore il Bologna addirittura secondo solo alle spalle del Milan come tiri in porta di nuovo terzo alle spalle di Fiorentina e di Milan anche l'aspetto di dribbling non mi dispiace perché comunque abbiamo giocatori che forzano questo compito Zierze le due ali il trequartista insomma è una squadra che comunque non lavora con tutti i dieci calciatori di movimento proiettati poi a saltare l'uomo non è un'indicazione di squadra è un'indicazione dei singoli però nonostante questo comunque la squadra ha secondo me lavorato bene nel senso che non è una squadra che si priva di questa possibilità di andare a saltare l'uomo se naturalmente l'occasione lo permette da calcio d'angolo Cagliari a gol del Bologna vediamo un attimo questo contropiede ma soprattutto vediamo il lavoro di Zierze perché si con compito e supporto si che è seconda punta ma rimane pur sempre comunque un attaccante qui il pallone allontanato da Beuke ma Janto che prova la conclusione viene respinta da Ferguson che poi è protagonista assoluto nella ripartenza perché va a servire un passaggio chiave per Carlson che può puntare l'uomo lo punta però poi dal momento che sa di essere messo sotto pressione sa di rischiare di perdere il possesso palla all'indietro e poi ottimo scambio Ferguson in questo momento abbiamo diversi calciatori abbiamo l'inserimento del centrocampista centrale abbiamo Carlson che è lì pronto ad entrare all'interno della rigore abbiamo naturalmente Zierze che occupa una posizione molto più offensiva e poi abbiamo Orsolini l'altra ala che stringe in questo caso Ferguson vede Zierze facile il passaggio facile il gol altro gol dove poi il pallone arriva a Zierze sempre partendo dalle fasce anche perché come ben sappiamo insomma il Bologna costruisce molto sfruttando le fasce ma per l'inesima volta abbiamo sempre quei soliti giocatori che sono sempre puntualmente in interno della rigore naturalmente Joshua Zierze naturalmente Luis Ferguson sempre l'inserimento di uno dei due centrocampisti centrali in questo caso Froyler quello che ha compito offensivi Orsolini e poi Carlson e in questo contesto qui si mette in mostra Zierze anche con una ottima dote che anche nella realtà ha quello del colpo di testa e appunto qui riesce a vincere il duello aereo e superare Joshua noi però abbiamo visto il gol abbiamo visto soltanto il momento finale i secondi finale però andiamo diversi secondi prima forse anche abbondantemente un minuto indietro qui Posch in realtà non un disimpegno perfetto Cabral ne poteva naturalmente approfittare a supporto arriva Orsolini perché comunque è una squadra anche di sacrificio quindi abbiamo Orsolini che riesce a diciamo non permettere alla serenitana di rendersi molto pericolosa anche perché in un contesto normale veramente potevamo andare davvero in crisi qui Orsolini recupera il pallone e poi con molta calma con molta lucidità non andare a forzare un lancio in avanti ma si riparte dietro proprio con l'esterno invertito di nuovo lo scambio con Orsolini per poi andare in una zona di campo scoperta quella di Kristiansen ma ancora poi la costruzione che non va a forzarsi perché comunque bisogna essere sicuri bisogna essere tranquilli la seconda punta Zirze qui abbiamo il lavoro scusate qua i colori sono praticamente uguali del centrocampista centrale offensivo e del trequartista come vi dicevo come avevo mostrato a inizio video praticamente Zirze diventa il trequartista delle due punte che non sono affatto punte l'azione poi si sviluppa sempre con l'esterno invertito ma sempre con la soluzione dietro perché la salernitana si chiude bene non concede spazi anche se però di spazi poi alla fine si vanno a creare perché qui questa fascia destra diventa occasione zona che Kristiansen decide di approfittare di avanzare e di servire poi il pallone decisivo per Zirze l'altro save è col Barcellona e mi sono divertito abbastanza Barcellona perché come nella realtà si parla di Tiago Motta al Barcellona si parla di questo scenario che potrebbe venire a verificare a giugno poi insomma vedremo alla fine dove andrà Tiago Motta potrebbe anche decidere di rimanere a Bologna ma ha voluto provare una squadra diversa ha voluto anche provare una squadra decisamente più attrezzata come è andata a finire con la versione definitiva di questo modulo il Barcellona ha vinto la Liga con dei dati davvero interessanti abbiamo stradominato il campionato con addirittura 101 gol fatti con 92 punti la grandissima enorme delusione è stata sicuramente una stagione fallimentare orribile da parte del Madrid un Barcellona con diverse giornate anticipo riesce a vincere il campionato purtroppo però solo il campionato perché sia la Coppa di Spagna che la Champions League siamo usciti davvero troppo presto certo in Champions senza il terzino dal minuto 39 non è stato proprio bellissimo però sicuramente al ritorno si poteva fare meglio al ritorno però si perde si perde in casa 1-0 e passa allo United Barcellona e Bologna col maggior numero di scatti rispetto poi alle altre rivali in campionato questo è un aspetto che me l'ho dimenticato di mostrare ma che è presente anche nel precedente save e qui come col Bologna abbiamo i tiri in porta abbiamo i tiri a favore è una squadra comunque che offre tante soluzioni e che è portata poi là davanti a tentare più volte la conclusione verso la porta perché appunto le soluzioni poi sono molteplici e sappiamo che al tiro possono andare e arrivarci diversi calciatori però anche qui un dato sui passaggi completati non siamo di certo la migliore squadra probabilmente c'è anche da considerare che potremmo arrivare a questo dato forzando ancora di più il possesso palla ma su FM questo rischio non me lo voglio prendere anche perché se lo forziamo di più diventa poi un modulo basato solo sul possesso cosa che non è affatto così poi nel reale Bologna nel senso che il vero Bologna offre un possesso medio sul 55% se non ricordo male spero abbiate apprezzato questo video questa analisi questa presentazione di questo modulo vi ricordo canale disco trovate i miei moduli anche i vostri moduli che potete naturalmente caricare e scaricare e noi signori ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti